Dopo la cerimonia regionale tenutasi all'Aquila, oggi a Pescara anche il Comando Provinciale ha festeggiato il 248esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Questa mattina presso la banchina sud del Porto Canale all'altezza del Ponte del Mare si è tenuta la cerimonia con lo schieramento di tutte le componenti del corpo operanti nel capoluogo adriatico ed in provincia. Il colonnello Antonio Caputo ha sottolineato l'importanza della ricorrenza. È una giornata importantissima che cade in concomitanza con il nostro 248esimo anniversario, il nostro 248esimo compleanno e lo stiamo festeggiando qui nel cuore della città in uno dei luoghi simbolo in questa crocevia tra il fiume, l'entroterra e la costa adriatica a fianco della collettività e questo è il significato di questa cerimonia svolta qui tra la gente per la gente. Il comandante provinciale delle fiamme gialle di Pescara ha poi messo in evidenza anche l'importante opera di contrasto alle frodi in commercio più che mai attuale in questo momento storico in cui è aumentato il costo delle materie prime. Siamo attenti su tutti i settori della polizia economico-finanziaria, in particolare ormai da 100 anni a questa parte la Guardia di Finanza è una polizia antifrode e quindi anche le frodi sui carburanti che pesano tanto sui nostri portafogli in maniera diretta e indiretta perché poi incidono anche sull'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità per noi è uno degli obiettivi principali sui quali stiamo sempre ogni giorno a presidiare e a controllare per evitare speculazioni.